Senza dubbio ieri è stato firmato l'armistizio e da oggi comincia la resistenza. Non voglio scomodare paragoni impropri ma è veramente questo, basta andarsi a rivedere tutta l'incredibile e tormentata cronostoria di questa lunga vicenda e ci fa capire di quanto veramente sia delicato il momento in cui si vive. Certo non sfugge a nessuno che ieri registriamo una tappa fondamentale senza la quale oggi staremo purtroppo a parlare d'altro, sarebbe stato il baratro, per cui senza dubbio non possiamo non registrare un elemento positivo l'accordo intervenuto ieri. Da oggi sarà vitale visto l'incredibile mole di tempo che è stato perso perché ricordo a tutti l'accordo di ieri purtroppo è duole constatarlo, ci riporta tutti quanti le lancette indietro dell'orologio al 3 maggio scorso nel quale a aula della tribunale era stato siglato un medesimo accordo che poi per tutta una serie di questioni trascorsi che non sto qui a ripetere vale a dire è stato di fatto annullato tutto quanto e ha allungato i tempi di fatto complicando un po' anche il quadro. Oggi non sfugge a nessuno che sicuramente è stato gettato una delle basi importantissime nel percorso che porti alla salvaguardia dello stabilimento e all'uscita dalla crisi, va da sé che tutti quanti adesso dobbiamo recuperare il tempo perduto e tutti gli attori, gli addetti ai lavori dovranno gettare il cuore oltre lo stavolo e lavorare lacrimente accelerando i tempi perché la sfida è veramente difficile, il percorso non è immune da ostacoli e insidie e tornanti pericolosi che rischierebbero di portarci a sbattere, ne dobbiamo essere tutti quanti consapevoli ma comunque la sfida è assolutamente giovele e c'è bisogno di sostegno di tutti, di tutti intendo i lavoratori hanno già dimostrato ampiamente l'incredibile attaccamento alla maglia e senza d'appartenenza, adesso tocca al soggetto nuovo che viene, si presenterà con un proprio piano industriale, le risorse ha già dimostrato di averle, ovviamente tutte le istituzioni preposte, ovviamente ci aspettiamo a questo punto dopo che il Tribunale avrà ovviamente fatto le proprie valutazioni in merito all'ammissibilità del piano concordatario perché ricordo a tutti che questa vicenda è strettamente legata, visto che c'è un concordato, un procedimento concordatario in corso, all'andamento aziendale per cui le due questioni sono inscindibili l'una dall'altra. Ecco, troppo presto per cercare di capire se i livelli occupazionali, lei ha parlato di piano industriale, verranno mantenuti, voi avete già un'idea su questo fronte o appunto aspettate il piano industriale? Ovviamente qualsiasi considerazione è prematura visto che ci dobbiamo confrettare con l'azienda, va da sé che in un momento come questo, dato il mercato che ancora vive una fase piuttosto fiorente, il nostro auspicio è che non solo si debba salvaguardare l'organico attuale, ma è inevitabile che si debba incrementare perché diverse competenze, diverse figure chiave anche sono state nel corso del tempo, sono state perse in quanto sono andate via perché c'è stata una grossa emorragia anche in termini di dimissioni, per cui va da sé che è vitale che si integri il personale in questo momento, non si deve giocare in difesa ragionando magari di eventuale riduzione e ristrutturazione aziendali, tutt'altro il paradigma va proprio rovesciato, bisogna assumere in questo momento. Grazie a tutti.